Buongiorno a tutti, grazie per l'invito al gruppo consigliare del PD e in particolare al suo gruppo, è una bella e interessante iniziativa. La questione dell'infiltrazione del crimine organizzato e mafioso nella nostra regione non è mai stata sottovalutata, sono 15 anni che attraverso ricerche e analisi sul territorio regionale, operate in particolare dal settore regionale della sicurezza e del progetto Città Sicure e dai segnali di preoccupazione che vengono e che sono venuti dagli amministratori locali e dalle associazioni e in particolare anche attraverso le sentenze che teniamo monitorate dalla magistratura, cerchiamo di tenere monitorata la situazione continuamente. In questo ambito la regione Emilia Romagna ha condotto diversi studi con risultati che hanno consentito di ricostruire un quadro delle organizzazioni criminali, dei loro traffici e delle loro attività, di individuare le strategie delle organizzazioni per insediarsi nel nostro territorio, di riscontrare come in Emilia Romagna il controllo del territorio da parte di organizzazioni criminali sia ancora debole, mentre la loro attività principale e più remunerativa è costituita dai traffici illeciti, come tutte le modalità relative al riciclato, e in particolare anche ancora al traffico degli stupefacenti, di avere conferma dell'importanza assunta da elementi di provenienza mafiosa nel favorire l'ingresso di organizzazioni criminali nella nostra regione, i cosiddetti uomini cerniera. La regione Emilia Romagna ha supportato i comuni che hanno continuato ad approfondire la conoscenza del problema nel loro territorio attraverso l'istituzione di osservatori permanenti, come ad esempio, vi cito Reggio Emilia, da diversi anni ci sono progetti specifici e un osservatorio permanente, con progetti di integrazione fra cultura alla legalità, supporto alle associazioni e al volontariato per costruire tessuto sociale e recupero urbano, progetti che vengono visti dal settore e dall'assessorato alla sicurezza, perché l'integrazione nel rendere più piacevole un luogo e contemporaneamente creare un tessuto efficace e formazione alla cultura della legalità, al civismo, è un tutt'uno per migliorare definitivamente alcuni quartieri. A questo proposito, i riferimenti acquisiti dai prefetti, dai comandi regionali, dall'arma dei carabinieri, dalla Guardia di Finanza, hanno confermato quanto messo in evidenza dalle nostre attività di ricerca. In Emilia Romagna il crimine organizzato ha scelto di adottare la strategia della cosiddetta infiltrazione, caratterizzata dalla necessità di impiegare, nel contesto economico-imprenditoriale, la liquidità derivante dalle attività illecite. Personaggi di varia natura vengono utilizzati nella prima fase, cosiddetta di approccio, al mondo economico-finanziario. Essi mettono a disposizione delle compagini criminali di riferimento, le proprie capacità e le strutture tecniche a loro disposizione, al fine di investire in attività legali i proventi di attività illecite. Tale strategia trova favorevole sviluppo in ragione ad una molteplicità di fattori. Primo, il radicamento dei pregiudicati giunti in soggiorno obbligato nei decenni passati, che hanno poi scelto questo territorio come polo di interessi propri e delle famiglie d'origine. Due, la peculiare posizione geografica che favorisce il collegamento fra le diverse zone della penisola. Tre, la forza attrattiva del mercato, contrassegnato dalla varietà e dall'altissima produttività dell'economia dal commercio al manifatturiero, dal turismo ai servizi. L'economia emiliana, costituita da un tessuto imprenditoriale di piccole e medie imprese, se da un lato ha consentito stabilità economica, dall'altro è in potenza terreno molto favorevole ai tentativi di riciclaggio nazionale ed internazionale. Si può pertanto affermare che le migrazioni di pregiudicati dai luoghi di origine avvenuti sin dagli anni 70, con successivo radicamento sul territorio e la possibilità di reinvestimenti dei proventi illeciti, costituiscono le cause che verosimilmente, più di altre, hanno determinato le articolazioni e la presenza di soggetti riconducibili ai gruppi mafiosi nazionali, tutti i gruppi li abbiamo presenti, sul territorio della nostra Regione. L'attività di ricerca ha anche dimostrato nel suo complesso che, nonostante la presenza di alcuni fenomeni in alcune aree, l'Emilia Romagna sostanzialmente rimane una terra nemica. Terra nemica perché, nel corso degli anni, nonostante una presenza significativa, la mafia non è davvero riuscita a penetrare la solida corazza istituzionale, salvo, in ultimo, pare dalle recenti indagini, il caso di Parma. Riteniamo sia necessario rafforzare tutti i nostri possibili anticorpi ed abbiamo preso sul serio questa sfida. La mafia non la si può rinchiudere in un recinto, si sparge come un virus e gli anticorpi sono soprattutto quelli di prevenzione culturale. Per questo bisogna osteggiare e respingere la mafia come sistema di vita e di lavoro e far crescere continuamente una cultura ostativa verso questi fenomeni. Insomma, creare un terreno non fertile. Dalla legge regionale per il controllo dei cantieri, sia negli appalti pubblici che privati, a quella per la prevenzione delle infiltrazioni mafiosi e la diffusione della cultura della legalità, la Giunta, inoltre, ha già discusso specifici provvedimenti per il controllo dei settori autotrasporti, facchinaggio e cave e rifiuti.